Cresce la presenza dei cinghiali e la vita è sempre più dura per gli agricoltori locali. Si parla tanto di biodiversità, ritorno all'agricoltura e di potenziamento del settore per la valorizzazione dei prodotti locali. Ma alla fine, chi davvero crede in queste idee e le porta avanti con sudore e fatica, viene irrimediabilmente abbandonato a se stesso. E' il caso proprio degli agricoltori locali che ogni anno, puntualmente, si ritrovano a dover fare i conti con i campi raccolti devastati dal passaggio inesorabile dei cinghiali. Ogni anno la storia si ripete, denuncia Mario Somma, agricoltore di San Rufo. I contadini coltivano terreni e i cinghiali raccolgono la produzione. Lavoro e sacrificio di tanti coltivatori del territorio che in una notte si riduce al nulla per il passaggio degli ungulati che hanno ormai invaso anche i centroabitati, non solo quelli ubicati nell'area protetta del Parco Nazionale Cilento, Vallo di Diana e Alburni, ma anche nelle aree contigue e oltre. Da anni ormai, continua Somma, non raccogliamo più nulla nei terreni. I cinghiali distruggono tutto, cereali, mais e anche vigneti. Ad essere maggiormente amareggiati per questa situazione sono proprio gli agricoltori delle aree contigue al Parco, come lo è il territorio di San Rufo, che pur soggetto ai vincoli imposti dall'area protetta, si ritrovano di contro a non poter usufruire dei vantaggi e della protezione riservata ai coltivatori dei centri rientranti nell'area. La cosa che più fa rabbia, spiega amareggiato Mario Somma, è il fatto che nessuno ci ascolta. Ogni volta denunciamo queste problematiche, ma in risposta abbiamo solo uno scarico a barile di colpe e competenze. Sarebbe ora che gli enti si assumessero le proprie responsabilità. A raccogliere le istanze degli agricoltori e sostenerle nelle ragioni, il consigliere comunale di San Rufo, Domenico Setaro. Ciò che denunciano alcuni cittadini, dichiara Setaro, è un problema molto sentito. Noi tutti veniamo dalla terra, specialmente nei nostri piccoli paesi. Se puntiamo a valorizzare i territori prima, dobbiamo imparare a difenderli. Questi contadini vanno aiutati, sottolinea, e presenta anche la sua proposta. Potrebbe rivelarsi utile allargare il programma del sele controllo anche oltre i confini dell'area parco e, se possibile, aumentare il numero di seli controllori, in modo da frenare l'eccessivo incremento dei cinghiali.